Tante volte può capitare che state sedute a un tavolo, state facendo un fatto delle cose e sentite alle vostre spalle una porta che sarà Chi è? Chi è? Avanti, chi è? Avanti! Guardate la destra, guardate la sinistra, ma chi ha avuto questa porta? Ma come questa porta come si era avuto essa sola? Allora di nuovo sopraggiunge la giustifica coscienza La porta si è aperta da su, ma una porta si è avversa da su, è stato un morto, è stato un morto Ha avuto la porta, ma guardate l'ha sfottuto, si è fatta una rosata Ed è sparito, sono resistenti, sono sottili Non sono andato, sono pizzati dappertutto, sotto i tappeti, sotto i seggi, nelle maniche delle giacche Voi provate a inflarvi la giacca, la giacca, l'ostacolo in movimento Sono sottili, sono esistenti, si ficcano nelle mobili, nelle gravatte Si ficcano nelle gravatte, la mattina voi state facendo la gravatta, no? Dice, ma com'è? La mattina non sono specchio Cioè, se uno muovente e mi ha avuto questa gravatta, stamattina la gravatta non mi arriva a fare E' un morto, è un morto che si è infilato dentro al nodo della gravatta Vambroglio il capello sotto, il capello sotto, un nodo che non può fare La gravatta non può fare, la gravatta non può fare, la gravatta non può fare Ecco perché non possiamo tornare alla notte Perché tutti � assure l'osp情况 Per se vol seven oltre Il ottimo